Momento recensione Gutsen Moza Mini S Essential Si stiamo parlando di un gimbal stabilizzato su tre assi per i cellulari non sono solito fare questo tipo di recensioni perché sono rimasto scottato con un vecchio gimbal di cui magari potrete vedere qui sopra la recensione che non mi era piaciuto particolarmente ma devo ricredermi perché Gutsen ha tirato fuori un prodotto veramente veramente valido tra l'altro è la stessa casa che produce il mio Gutsen Moza Air che utilizzo per la Sony A6300 e per la Sony A6500 che arriverà tra qualche giorno perché ho trovato un'offertona su Amazon che mi ha permesso di acquistarla a 750 euro quindi se volete magari seguirmi anche sulle offerte qui sotto c'è il mio canale Telegram dove inserisco tutte le offerte quotidianamente sui prodotti che o acquisto per i fatti miei perché mi interessa acquistarli oppure che magari vi posso consigliare se sono cose che hanno un prezzo ragionevolmente basso magari anche su Amazon Warehouse e vi permettono magari di risparmiare qualche urino su qualche acquisto che vorreste andare tanto a fare. Va bene non c'entrava niente era una marchettina sul mio canale Telegram cominciamo a parlare di questo fantastico gimbal di Gutsen che già si presenta così mi fa impazzire questa cosa che è piccolissimo innanzitutto andiamo a smontarlo e a vedere come si presenta una volta uscito dalla scatola è piccolissimo vedete ed è piegato perché è pieghevole viene fornito anche un piccolissimo treppiedi utilissimo con vite da un quarto di pollice qui sotto andiamo subito ad infilarlo di modo che vediate anche le dimensioni con il cavalletto inserito e è semplicissimo anche da aprire è tutto in plastica vi faccio vedere come è fatto e come si va a sbloccare qui potete notare c'è un blocchettino che permette appunto il blocco e lo sblocco del meccanismo del gimbal si andrà a sbloccare e a ruotare il gimbal in questa maniera arrivati su avremo un ulteriore blocco che ci garantirà la stabilità e la fermezza del gimbal stesso un altro blocchettino lo troviamo sull'asse di rollio qui di fatti sentite il rumore che ci permette di andare a sbloccarlo perché c'è questo blocchettino perché così quando lo andiamo a trasportare non rischieremo di rovinarlo sbattendolo qui e là per farvi vedere come stabilizza il gimbal utilizzerò il mio smartphone uno Xiaomi Mi 8 Lite da 5 pollici ce ne stanno anche di un pelo più grandi perché se notate l'apertura è studiata in questa maniera qua quindi abbiamo due molle che permettono l'ingresso del telefono andiamo ad inserirlo subito per vedere come si comporta quindi inserisco il telefonino all'interno la cosa che consiglio a tutti quanti è quella magari di cercare di avere un minimo di bilanciamento sul telefono quindi cerchiamo di bilanciarlo in questo caso io per bilanciarlo lo sposterò leggermente più in qua ok già meglio adesso non cade più in questa maniera vabbè si gira in questa ma è semplicemente dovuto al fatto che ho più peso sopra che sotto potrei andare a spingerlo un pochino più giù ecco ho praticamente il telefono già ben bilanciato per l'utilizzo ma cosa sono secondo voi le cose indispensabili per un gimbal? la cosa che mi è venuta in mente quando ho aperto la scatola è stata una lista di cose indispensabili appunto per poter valutare se un gimbal è un prodotto buono, utile oppure un prodotto inutile e che appunto non serve a nulla di sicuro nella mia lista dei desideri c'è la portabilità perché giro in motocicletta la maggior parte delle volte voglio della roba piccola questo è portabile, si piega la stabilità del gimbal, la stabilità delle immagini una volta che viene acceso e questo andremo a vederlo tra pochissimo la vite da un quarto di pollice sotto per potermi permettere di attaccarci cavalletti o magari anche bracci estensibili se vogliamo utilizzare degli extender, degli arm extender e la possibilità di utilizzare l'applicazione magari un'applicazione proprietaria della casa madre con il gimbal che si abbini nobo che ne so tramite bluetooth anche questo ce l'ho facciamo qualche ripresa e diamo un'occhiata a come si comporta questo piccolo gimbal da soli 79 dollari ragazzi grazie 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 per accenderlo c'è un pulsante rosso qui di fianco che andrà ad attivare la stabilizzazione del nostro telefonino c'è un'applicazione dedicata che si chiama moza geni eccola qui che si collega via bluetooth tramite questo pulsantino qui al nostro gimbal in modo da poter utilizzare tutte le peculiarità del telefono dell'applicazione tramite i pulsanti del gimbal stesso veramente una cosa interessante ovviamente abbiamo il nostro joystick che più piano lo muoviamo più lento farà muovere il gimbal e una gestione della stabilizzazione che a me piace veramente veramente molto sì molto tra l'altro qui di fianco c'è questo altro pulsantino che ci permette di zoomare l'immagine direttamente appunto dal gimbal senza dover toccare ogni volta il nostro schermo del telefono quali sono le caratteristiche tecniche di questo gioiellino di casa guzen innanzitutto partiamo con il peso pesa meno di 500 grammi per esattezza 498 grammi quindi veramente veramente leggero può portare fino a 260 grammi di peso e la batteria dura 8 ore tanta roba tra l'altro si ricarica in solo un'ora e mezzo quindi si ricarica tramite la presa usb di tipo c che trovate qui di lato qui sotto c'è un'altra presina che si trova sotto qui che serve per collegarla direttamente al telefonino per poter ricaricare il telefono tramite la batteria stessa del gimbal i materiali sono plastici ma comunque di qualità la parte meno qualitativa forse è questa la parte diciamo dell'impugnatura che poteva essere studiata magari con un grip un po' diverso però vedete che anche le dimensioni la mia mano è una mano nella media le dimensioni permettono di mantenere bene il gimbal in mano senza aver problemi tra l'altro con la possibilità di utilizzare i vari pulsanti che adesso andremo a vedere per capire come funzionano partiamo dal più importante di tutti che è il trigger vedete che il mio telefono rimane fisso stabile in questa posizione ok quindi rimarrà con l'orizzonte sempre direzionato verso avanti se vado a pigiare il trigger a questo punto il telefono seguirà l'inclinazione del mio gimbal se volessi rimanere inclinato basterà mollare il trigger e il telefono rimarrà inclinato in quella direzione andando a puntare esattamente quello che stavo puntando precedentemente ma se volessi ritornare a ricentrare il mio gimbal una volta che è completamente girato basterà andare a dargli un doppio click sul trigger e vedete che ritorna perfettamente nella sua posizione se volessi attivare il POV mode ovvero questo vedete che non sto toccando il trigger ma lui segue esattamente i miei movimenti quindi non mi serve il trigger se volessi attivarlo basterà andare su questa rotellina che in realtà non è una rotellina che scorre ma sono 4 pulsanti più quello centrale e dargli un doppio click sul pulsante di sinistra così è disattivato vedete così andiamo ad attivarlo la cosa forse più impegnativa di questo prodotto è iniziare ad imparare tutti questi click da poter fare però semplicemente prendendolo in mano come primo utilizzo sapendo come funziona un qualsiasi gimbal sapendo che il trigger ci permette di utilizzare l'inclinazione io già riesco a lavorare tranquillamente in questa maniera ho la possibilità anche di entrare in una modalità che si chiama sport vedete che adesso se ruoto il gimbal è abbastanza reattivo ma non eccessivamente se entro nella modalità sport che si attiva cliccando due volte sul pulsante sottostante quindi così è la modalità normale clicco due volte il pulsante sotto vedete che è molto più reattivo è molto più veloce nei comandi nel seguire i movimenti ritorno nella modalità normale vedete che è più morbido diciamo e c'è anche un'altra modalità che piace tanto da quando è uscito il film Inception che appunto si chiama Inception Mode e si attiva appiggiando tre volte questo pulsante uno, due, tre il telefono si mette in questa posizione e io in questo modo potrò andare a ruotare il telefono in questa maniera in Inception Mode oppure semplicemente con il joystick potrò spostarmi il gimbal però non ha la rotazione a 360 gradi su questo asse quindi l'Inception Mode può essere effettuato ma si otterranno dei blocchi spengo un attimo il gimbal per farvi vedere che cosa intendo vedete che parte da qui e arriva qui quindi non ha la possibilità di ruotare a 360 gradi devo dire che sinceramente non ne sento la necessità con un gimbal per cellulare di dover avere una rotazione di 360 gradi anche sull'asse dell'imbardata com'è la sensazione di utilizzo di questo gimbal quindi cioè averlo in mano utilizzarlo spostarsi vi ripeto l'ho trovato molto leggero mi piace particolarmente perché non ho ancora notato micro vibrazioni nel momento in cui lo vado a stressare o vado comunque a saltellare a utilizzarlo in maniera eccessivamente strong materiali costruttivi ottimi bravi i ragazzi di Gutschen che secondo me hanno fatto un lavorone veramente buono ma d'altronde vi ripeto non ho fatto la recensione del Moza Air perché aveva talmente tante funzioni che non ero preparato per fare una recensione poi tra una cosa e l'altra ho iniziato ad utilizzarlo per lavoro e l'ho ottenuto per un bel po' di tempo ce l'ho ancora è il mio primo gimbal per ora fin quando non mi deciderò a passare al Moza Air 2 che comunque magari recensiremo prossimamente nel canale e sono strassoddisfatto ragazzi 79 dollari cioè portatile, piccolo, funzionale, leale ha veramente tutto e anche qualitativamente ovviamente non guardate tanto le immagini che sono relative al mio di telefono che è uno Xiaomi Mi 8 Lite pensatelo con la qualità del vostro cellulare ma vi garantisco che è un prodotto top gamma best buy direi che consiglio veramente a tutti quanti diamo un'occhiata ai menu di questo prodotto anche perché non vi ho detto una cosa ragazzi ha un'applicazione che a me ha fatto impazzire che è il tracciamento delle persone o degli oggetti quindi funziona in questa maniera vediamo se mi traccia ok dovrebbe avermi tracciato quindi il gimbal vedete io lo sto spostando ma lascio fermo il... non ruoto non sto ruotando il gimbal è il tracciamento dell'immagine che vedete mi abbasso mi tiro su mi sposto qualsiasi movimento vado a fare il gimbal mi segue fin quanto può con la sua rotazione questa mi piace da impazzire perché se pensate di poterlo utilizzare magari anche per fare delle recensioni o per fare dei vlog o che voi lo andate a posizionare con il suo comodo tre piedi appoggiato lì e potete girare attorno al telefono e lui continuerà a tracciarvi bello mi è piaciuto proprio molto questa applicazione e un'altra cosa che non vi ho detto prima prima di passare ai menu è la possibilità di metterlo in standby quindi si clicca una volta sola e si mette in standby e la possibilità di utilizzare qui dietro questo blocco che ci permette di ruotare il telefono ok e di utilizzarlo in modalità portrait se vogliamo fare una diretta su instagram avremo la possibilità di gestire il telefono con una stabilizzazione veramente ottimale in confronto al mantenimento del telefono in mano riusciamo ad ottenere delle immagini anche verticali molto 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 stabili vedete mi piace mi piace un sacco questo gimbal andiamo dentro il menu come potete vedere abbiamo dei tasti che ci permettono in basso a sinistra di entrare all'interno delle nostre immagini abbiamo la possibilità di collegare il bluetooth del telefono direttamente al bluetooth del mozza mini s abbiamo la possibilità di gestire la velocità dello zoom le calibrazioni o di disconnettere il nostro telefono una volta che è collegato via wifi abbiamo la possibilità di andare a appiggiare questo pulsante per recuperare un oggetto per tracciare un oggetto questo è molto scuro vediamo se lo riconosce lo stesso è troppo scuro no ok l'ha riconosciuto vedete che continua a seguire l'oggetto a fianco abbiamo la tempistica di registrazione abbiamo la possibilità di ruotare lo schermo abbiamo la possibilità di inserire e di entrare all'interno delle impostazioni dallo switch camera al playback alle risoluzioni le regole dei terzi i focus i microfoni bluetooth o addirittura di andare in live di fare una diretta su qualsiasi piattaforma vi possa interessare ogni menu ad esempio quello video se entro nelle risoluzioni fa aprire un ulteriore menu dove posso andare a gestire le risoluzioni 1080 a 4k a 30 frame al secondo 1080 a 30 frame o 720p a 30 frame al secondo posso andare anche ad impostare alcune impostazioni come la compensazione dell'esposizione il bilanciamento del bianco e lo zoom insomma vedete che è abbastanza intuitivo anche come menu interno qui in alto abbiamo la possibilità di rientrare nuovamente nei menu vedete menu fotografico piuttosto che menu videografico piuttosto che menu del timelapse in fotografia o del motion lapse un sacco di impostazioni utili che potrete andare a utilizzare entrando in questo piccolo ma completissimo menu effettivamente bene quindi cosa ne pensate di questo prodottino di casa Hudson dai fatemelo sapere qui sotto nei commenti ragazzi nel frattempo ricordatevi di iscrivervi al canale e di cliccare mi piace su questo video se vi è piaciuto lo condividete con i vostri amici ricordatevi di attivare la campanellina per rimanere aggiornati sull'uscita dei prossimi video che verranno fuori ricordatevi che noi ci vediamo il martedì con la live sul mio canale YouTube il mercoledì con video come questo tipo recensioni oppure comunque videoproduzioni di cui mi occupo quotidianamente il giovedì ci vediamo invece con i corsi di videoproduzioni con Da Vinci Resolve chiacchieratissimo ormai programma di videoproduzioni che stanno iniziando ad utilizzare tutti quanti e ricordatevi che qui sotto c'è anche il link per l'acquisto di questo gioiellino non mi resta che salutarvi noi ci vediamo con il prossimo video ciao!